Bella ragaz, ci tenevo a mettere il punto su determinate questioni che sono venute fuori negli ultimi giorni, ho lasciato passare un attimo perché mi sembrava più opportuno essere lucido, ci tengo a specificare che però con i diretti interessati mi sono già fatto vivo domenica mattina appena sono stati resi pubblici i video del programma su Twitch, con alcuni ho già chiarito, con altri spero di farlo nei prossimi giorni, ovviamente mi rendo conto che alcune frasi non sono proprio dall'uscita felici ed è quindi giusto che quando dice una minchiata la gente te lo faccia notare, so di essere una testa di cazzo e di essermi lasciato sfuggire tra l'altro con le parole peggiori possibili determinati commenti che potevo risparmiarmi, mi sono stati detti nell'ambito di un programma con amici comici che voleva commentare Sanremo con un fare piuttosto gogliardi come se fossimo a casa per alleggerire un po' la tensione del festival visto da dentro e da fuori contemporaneamente però mi rendo conto che questo non vuole essere una giustificazione, più che altro contestualizzare la cosa e niente so di essere una testa di cazzo e talvolta il microfono dovrebbero spegnermelo, cercherò di farci attenzione ma non sono certo di poter garantire di non dire più nessuna minchiata nella mia vita, quello che è giusto fare assumersene le responsabilità come ho fatto e come cercherò di fare sempre e quindi niente bella, perdonatemi